Il sindaco ha ordinato la chiusura della scuola dopo quegli scricchioli sospetti che avevano portato gli insegnanti ad evacuarla, ma a quanto pare nessun danno strutturale. No, assolutamente non c'è nessun danno strutturale, diciamo la scuola è in sicurezza perché la struttura è sana, quindi al di là di qualche problema di manutenzione che comunque già stiamo provvedendo ad eliminare, non a caso è una gara d'appalto in corso proprio per questa scuola, i termini scadono il 4 giugno, quindi a dimostrazione dell'attenzione che stiamo poi prestando nei confronti delle scuole, non c'è particolare attenzione in nessun campo, la scuola è perfetta, la scuola può funzionare, c'è stata questa dichiarazione del sindaco che sfocerà in un'ordinanza per tranquillizzare i genitori perché volevano l'intervento ulteriore dei vigili del fuoco di Roma per verificare queste cose, abbiamo chiamato quindi i vigili del fuoco di Civitavecchia, loro li abbiamo pregati di far venire i colleghi da Roma, sono venuti e li avete visti perché erano qui fino a due minuti fa e non hanno riscontrato niente, quindi anche loro, la struttura non ha problemi, la scuola quindi può funzionare perfettamente, adesso io parlerò col sindaco, parlerò con la preside, ma soprattutto mi preme tranquillizzare i genitori, io capisco che i genitori purtroppo presi da esempi sbagliati della politica, della chattiva amministrazione a volte sono portati ad avere della sfiducia nei confronti delle istituzioni, di chi amministra, di chi si ritrova a ricoprire incarichi come il sottoscritto, però quando l'ingegnere dell'assessorato, quindi l'ingegnere Iorio, quando l'ingegnere evangelista, abbiamo chiamato questa mattina anche l'ingegnere della sicurezza, l'ingegnere del piano, i vigili del fuoco di Civitavecchia, i vigili del fuoco di Roma, dicono che la struttura è sana, io credo che anche i genitori devono stare tranquilli, quindi devono affidare i loro bambini alla scuola, ma non affidarli e poi stare in tensione o stare preoccupati, no, affidarli alla scuola e essere tranquilli che la scuola può funzionare e sicuramente senza nessun pericolo per loro. Poi noi speriamo e ci auguriamo, lavoriamo per questo, di consegnare una scuola ancora migliore per settembre, quindi lavoreremo in questa direzione.